Buongiorno, mi chiamo Michele Riva, sono uno dei circa 6.000 malati SLA d'Italia. La sclerosi laterale amiotrofica è ancora una malattia senza cura, e sono sconosciuti alcuni fattori scatenanti che causano la morte dei motoneuroni. Negli Stati Uniti è stato proprio un malato SLA a dare inizio a questa forma virale dell'ice Bucket Challenge, raccogliendo molti fondi e facendo conoscere la SLA al mondo intero. Ma qui non siamo in America. I nostri progetti di ricerca hanno fatto dei passi in avanti molto importanti a livello mondiale, ma con scarse risorse finanziarie. La SLA non colpisce solo la persona ammalata, ma tutta la famiglia con problemi e volte insormontabili. Io non ho paura di un secchio di acqua fredda. Io ho paura che vi dimentichiate di noi. Dopo che i riflettori sulle sacchiate gelate si spegneranno, aiutateci a continuare a sperare in una cura. Aiutateci a vivere con coraggio e dignità. Perché la vita è bella. La mia nomination è governatore della regione Piemonte, Sergio Chiamparino, e i governatori dei Rotary Club del Piemonte e Liguria e Palle d'Aosta, Ilario Piano e Giorgio Groppo. E ora, della mia doccia. Com'è il velo della sposa? Così, ok. Bravo. E il ghiaccio lo butto dentro, vero? Pronti? Sei pronto, Michele? Michele, sei pronto? Andiamo? Vai. 3, 2, 1, via. Via! 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 Via!